Metro, mercoledì 30 gennaio 2019, rubrica in famiglia, titolo non pensate alla gelosia immotivata. Il rimedio più efficace contro la gelosia immotivata è non curarsene. Fino a un certo punto possiamo dare dei riscontri del nostro amore a chi ci manifesta le sue paure, ma con dei limiti. Se la gelosia di qualcuno ci avvelena la vita al punto di rovinarcela, allontaniamoci da quella persona. In ogni caso, se tradissimo noi stessi, anche se esternamente non cambiasse nulla, sarebbe già un fatto che noi in quella relazione malata non ci saremmo più veramente. A volte però possiamo chiederci se chi è geloso di noi è davvero senza motivi per esserlo. La gelosia si manifesta quando si ha anche solo il timore o il sospetto di essere sul punto di perdere la persona amata per colpa di altri. Nel giudicare quei timori come infondati, non dobbiamo però solo interrogare il nostro cuore. Dobbiamo anche chiederci se stiamo trasmettendo nel modo giusto a chi ci ama il nostro amore. In questo esame teniamo presenti che il modo giusto deve parlare il linguaggio dell'altro, non il nostro. Può essere per esempio che a noi le telefonate non dicano nulla, ma se sono importanti per il nostro partner, forse dovremmo prendere in considerazione di telefonare più spesso quando siamo lontani. Se non abbiamo capito che amare è anche parlare il linguaggio dell'amore dell'altro, forse chi si dichiara geloso ci sta dicendo, nel modo sbagliato non che è geloso, ma che non si sente amato.